Da una battuta, finalmente tu. Sì, sono molto contento, il gol è una bella fonte di adrenalina, lo aspettavo con anche tranquillità, però fa molto piacere. Grande reazione, grande partita, grande vittoria. Sì, perché venivamo da una settimana decisamente brutta, c'era anche un'aria molto amareggiata nello spogliatoio, però oggi abbiamo tirato fuori una prestazione di altissimo livello, abbiamo mostrato un bello spessore morale, oltre che poi tecnico, sono tre punti che sono venuti molto bene, meritati. Il mister in conferenza ha detto adesso niente alibi, le prestazioni dovranno essere sempre come quella di Vicenza, comunque dare continuità a questo carattere. Sì, il problema nostro di questo inizio stagione è la continuità, perché anche nelle sconfitte abbiamo mostrato un calcio di buon livello, però non continua, magari per 60 minuti, per metà partita. Oggi invece abbiamo tenuto 95 minuti, ripeto, di grande spessore, deve essere però un punto di partenza che non ci faccia adagiare, perché è una vittoria nulla a più. Grazie a tutti.